Mia cara Ferre, quest'oggi giochiamo a Sprinting Simulator su Minecraft In poche parole, in questo momento non possiamo camminare No, mi posso muovere Stef E l'unico modo che possiamo fare è con questi saltellini È una faticaccia incredibile E comunque è come quelle mappe di Roblox Dove poi pian piano tu corri velocissimo e qualcosa del genere Ah Ferre, se tieni premuto comunque per correre e spammi salto Io vedi che un po' mi sto riuscendo a muovere Vabbè, un pochino, un pochino Devi riuscire a prendere questi globi rossi Perché ti fanno aumentare un po' la velocità Mentre questi d'oro ti danno soldini Quindi, sì, comunque è come le mappe di Roblox Perché poi non ti stiamo rispondendo Sì, 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 ho capito Abbiamo un obiettivo molto semplice Collezionare soldi, collezionare velocità E piano piano diventeremo velocissimissimi Ma tu riesci a saltare? Ah, così Hai visto? Usciti da quella zona non possiamo più saltare Il mio personaggio non si muove Pensavo che si fosse rotto o qualcosa del genere No, perché se tu spammi spazio salto Cioè corre, invece che saltare È una cosa stranissima Certo, perché è una cosa molto strana Mamma mia Allora, io non so se con i soldi che ho Posso già comprare qualcosa Però tornare in base non è proprio comodo No, assolutamente Però Steph, se... Allora, la memoria non mi inganna Nelle altre mappe il primo pet costa 500 Quindi comunque i 500 li dovresti avere Ma io voglio comprare velocità Ad esempio, quant'è che costa la velocità? Allora Buongiorno, buongiorno Vediamo qua, c'è un venditore Beh, avevi ragione Che cosa? 500 Ho preso un pet Eh, te l'ho detto È sempre così tanto È sempre così Feeling lucky Sì che mi sento fortunato No, io adesso voglio trovare quei pet Che ti danno lo sprint Che ti danno la corsa Che ogni volta ce ne lamentiamo Che non serve a niente Bene, ma questa mamma ti piace un sacco Sai cosa si prende come cibo? No Avocado L'ho visto L'ho visto all'inizio Però non ti volevo interrompere nell'intro Infatti sono felicissima Io adoro l'avocado Cosa danno le bancarelle? Le hai già controllate? Cosa? Le bancarelle, cosa danno? Allora, lì c'è qualcosa da 30.000 Quindi ti consiglio di andare all'altra No, non ci sono ancora andata Steph, perché sono troppo lenta E ci vuole una vita da arrivare La speed level è il 250 Ma io non so quanta speed Allora Vai, primo pet Oh, sono riuscita ad arrivare a comprarlo Mamma mia Ti prego, corsa Corsa Non riesco Mi sto buggando Steph, aiuto Ok Non riuscivo ad assumerlo Feeling lucky Ok Avrei preferito di gran lunga La corsa Continuo a ripeterlo Perché secondo me è una tragedia Però io sto diventando veloce Davvero? Sì Allora Va un po' meglio anche per quanto mi riguarda Quindi va bene Non mi chiedo però come arrampicarmi Nelle montagne Perché non posso saltare 2005 Ah, l'hai vista questa roba, Steph? No Stavolta Per sbloccare le nuove zone Dice che entrambe le persone Lo devono acquistare Quindi entrambe le persone Devono poter fare l'acquisto Non possiamo più fare come facevamo Ma racconta su veloce No, Steph Però almeno non me li rubare Vai in quelli in alto Arrampicati Trova il modo Non so come saltare Non lo so ne anch'io Fammi vedere Non è che poi quando sei molto veloce Magari arrivi a fare anche dei salti giganteschi Non lo so Non lo so So solo che nel dubbio mi sto comprando Altri due pet E Ah Il pet per jumpare Finalmente posso saltare Uhuh Come fai? È perché ho preso il pet No Già Quindi è un pet che ti fa saltare Accidenti Abbiamo scoperto il mistero Perfetto Ma io sono veloce per essere veloce Allora Sono diventato molto più veloce anche io E infatti vado a comprarmi il secondo pet Dai dai Voglio che io quello Ok mi fa saltare Mi fa correre di più Qualcosa del genere Mi fa correre Mi fa correre Speed La seconda zona Quanto costa? 2005 Ok Quindi dobbiamo fare 2005 entrambi Eh 5000 in tutto Uh Ma questo che cos'è? Lo posso comprare? No No Mi sta solo dicendo quanto mi danno i globi Pensavo di poter comprare qualcosa E essere un po' più veloce Ok Vediamo ora Eh sì Sì Si vede la differenza col pet Assolutamente sì Si vede Sei più veloce? Sì Io non ho neanche più bisogno Non di tantissimo Di sto mare salto No neanche io non ho più voglia Vado velocissimo Allora Vediamo Ah tu non hai più bisogno Io dicevo che non hai più voglia Perché mi si sta bloccando la mano Vado super veloce Cavolo Quindi devo trovare il pet Capisco Capisco Allora Facciamo i 2005 per la prossima zona? E Fere guarda quanto sono Maledetto Vabbè io sono già mille Dai non sto andando male Non sto andando male Con il pettino che mi dà l'hack E più questo Che mi fa correre di più Non sto andando così male Però sinceramente inizio a consumare il cibo molto in fretta Lo so Infatti io ho comprato anche qualche avocado di scorta Perché si consuma velocemente Questo è un problema Poi io mi sa che ho tre pet Quindi ho scelto molto di più di te Infatti Però sei più veloce Quindi riesci a prendere più globi Poi tu almeno riesci a prendere anche quelli delle montagnette Io non ci riesco ancora Sì perché quello per soltare è utilissimo Mi devo accontentare Lasciami con l'odoro Maledetto Ce l'avevi con me? Sì Non ti permette Allora milleotto Steph bisogna collaborare Se non abbiamo i soldi Quello si va avanti Non puoi fare tutto da solo come fai sempre Finalmente una mappa che blocca l'infamia di Steph Ah no aspetta Devi per forza comprare anche tu Sì Davvero Sì Non ho capito Credo Pensavo dovessimo comprarlo entrambi No 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 io apre vado But people need to purchase Quindi entrambe le persone So Fede Ma io avevo capito che bisognava premerlo in contemporanea No no intendeva che devi avere entrambi Entrambi comprano la chiave Perché solo se hai la chiave nell'inventario puoi andare Allora Creatore di mappe Fede No Perché tipo in certe mappe di Roblox è così Eh sì ma no questo non è un revert Questo è comprare una zona Allora sono a 2003 Quanto manca? Vediamo un pochettino Che poi la prossima quant'è che costa? 30.000 Eh sì infatti lì c'è bisogno di prendere pet migliori Però se vedi infatti ho già 2600 io Oh io non ci arrivo mai Eccoci qua giustissimi Anche perché poi voglio andare subito a prendermi un pet E ma non ce li hai i soldi adesso Chiave Come si apre? Allora devo mangiare E tieni in mano e cammina Non mi fa entrare Con la chiave in mano? Sì Tasso destro Ma è questo sì Sì 2005 Tasso destro Steffo Ma dai Io sto morendo di fame Perché dice che richiede anche 75 di velocità Magari non ce li hai Ma io gli spacco la faccia Ma cosa vuol dire queste regole che non hanno senso di esistere Non lo so Di esistere non di esistono Non lo so Però magari ti punisce Se farmi troppo rispetto alla tua velocità Allora Vado un attimino A comprarmi Degli avocado Morendo di fame Steffo Comprami un pet No Dai compra Ma lo sei pieno di soldi Mi sto comprando quelli da 2000 Mi serve No comprami un pet Dai Allora cosa ho trovato? Ah Mi fa avere meno fame Dove vedo il mio speed level secondo te? Non l'ho capito Scusa E che iella però Amico però Non mi piacciono ste cose Allora Mi metto qua Forse lo vedi così Se guardi i tuoi stivali A me dice 109% o speed Vabbè 110% Sì è così Controllalo Guarda i tuoi stivali Premendo è 32% E ti serve 75% Ma siamo seri? Dai però Ho trovato anche un altro pet Che mi dà lucky Quindi almeno lo dovrei fare più veloce 33% Lo spero Ma perché? Oh salto Perché adesso salto? Ah Steph Non era il pet Era quando raggiungi Secondo me Una certa velocità No vabbè io ho trovato anche un pet Che mi dava jump Quindi ho boostato il jump Ok no io invece non l'ho trovato Oppure salto quindi Ok Perfetto Quanto sono? Allora Controllo Ah però sto andando velocissima adesso Perché comunque la fortuna del secondo pet Si sta facendo sentire Sto andando velocissima Perfetto Perfetto Adesso ci manca solo che perdo la chiave La devo ricomprare Guardate Io ho avuto una sfiga Ce l'ho trovato due pet per la fame Nel livello 2 di pet Ma chi se ne frega Tanto basta che ti fai scorte di avocado Ho letteralmente buttato 4.000 Accidento Pochino sì Pochino sì Sì ma non 54 Sto arrivando Ti rubo tutta la zona Perre sono a 143 Muori Perché sei sempre più veloce? Non si sa perché È una questione di gestione dell'economia No è una questione di fortuna Che trovi le cose giuste nel momento giusto Ma non può esistere la fortuna Certo è che esiste la fortuna E che sei? Molto fortunato Solo nei videogiochi poi Perché nella vita reale Cavolo Stef non lo sei Anche se forse dovresti giocare tipo a supernale 8 Così magari diventiamo miliardari No no Qualunque cosa è semplice Nella vita non funziona con noi Deve essere difficile Hardware E ancora più difficile Quello è vero Quello è vero Allora Quanto sono? 8.000 58 No io ammazzo qualcuno Allora riesco fuori Sapete che faccio? Mi compro un pet da 2.000 Tanto comunque non so come altro spendere i soldi Me lo vado a comprare Me lo vado a comprare E spero che mi dia tanta fortuna in più A quello che serve Ho trovato una farfallina Che mi fa correre più veloce Perché è let's run No Stef non stare a comprare 2 ore Che tocca anche a me Lupo Mannaro che brutto Ho preso il feeling lucky invece Altro che brutto Che bello Ultimo Dai Quanto mi devi fare aspettare Questo cos'è? Let's run Ok quindi ho la corsa per 2 E il lucky per 2 2.000 Vediamo chi trovo Lupo Mannaro come te Quindi sicuramente quello fortunato No vabbè raga Raga non ho più il controllo E poi ne prendiamo un altro da 500 Vediamo Un creeper carino Questo mi fa correre di più Perfetto Quindi adesso sto veloce 64% Quanto costava la zona successiva? 30.000 Urca Se non ricordo male C'è questa da 30.000 Fammi vedere 30.000 E poi Questa che c'è qui Secondo me è la zona finale Fammi controllare Sì ovvio Sì 250 Ci mancheranno due zone Praticamente 250 Ok Riesco a entrare? Sì No o no Quanto sono? 66 Ma perché? Cioè ho più pet di te Di quando tu sei entrato lì Perché? Boh io so solo che ho 200% Perché prendi pochi globi E prendi tanti soldi Devi pensare di più ai globi E prendere E io prendo i globi Quelli di colori strani Sì li prendo Eh non so cosa Guarda questo è anche blu L'avevo mai preso Non so cosa 88 Sì 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 Finalmente Raga ora che è arrivata Finisce la pacchia e la festa Quindi per questo video Ci fermiamo No sono appena arrivata Schifoso come ho detto Nel prossimo Finiremo ovviamente la mappa Arrivando alle altre due zone Anche se sono un po' preoccupato Perché per quanto comunque Sono diventato un fulmine Ti vedo Sono velocissimo Diciamo che sono comunque Un po' limitati In questo momento Quindi arrivare a 30.000 Devo ammettere È un po' lento Non è banalissimo Non è proprio per niente banale Di conseguenza Bisognerà impegnarsi abbastanza Quindi ci fermiamo così Qua sotto con poi altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao